Marcello Bielsa dice no alla Lazio. L'argentino ha fatto sapere che non sarà il prossimo allenatore bianco celeste, scatenando l'ira del presidente Lotito pronto ad iniziare una nuova causa milionaria. La Lazio ha diramato un comunicato aggiunto 24 ore dopo quello riguardante l'ufficialità dell'accordo, in cui si parla di dimissioni da parte del loco e violazione degli impegni assunti. La squadra in ritiro è stata affidata a Simone Inzaghi, in attesa di conoscere il nome del nuovo tecnico. La squadra in ritiro è stata affidata a Simone Inzaghi.